Tornano nelle casse di famiglia gli oltre 8 miliardi sequestrati a Riva dai magistrati Tarantini. È l'ennesimo colpo di scena della complessa inchiesta sull'Ilva. La più grande acceieria d'Europa, il cui proprietario Emilio Riva, è agli arresti domiciliari per disastro ambientale e per aver messo a repentaglio la salute pubblica. La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro disponendo la restituzione di 8 miliardi e 100 milioni alla Riva Fiere, la finanziaria che controlla Ilva S.p.A. I supremi giudici hanno così accolto il ricorso dei legali dei Riva. Le motivazioni della sentenza saranno pronte entro 30 giorni. Sarà così possibile capire perché la Cassazione, col suo verdetto, abbia ribaltato la decisione del Tribunale del Riesame di Taranto. Cura Tarantina la bonifica dell'Ilva, promessa da anni dai proprietari del Siderurgico, non sarebbe mai avvenuta. È stata una colossale presa in giro, sintetizzavano i magistrati, disponendo il sequestro lo scorso 24 maggio degli oltre 8 miliardi. Cifra accantonata cautelativamente dai custodi del Tribunale proprio per dar corso alla bonifica. La cifra equivaleva, secondo il GIP Todisco, alla somma enorme che i Riva avevano accumulato da quando, nel 1995, acquistarono quella che all'epoca era Little Sider. Per l'accusa, piuttosto che rispettare le norme anti-inquinamento e salvaguardare la salute dei cittadini, i Riva avevano preferito accantonare per la famiglia ogni risorsa economica. Inquinare conveniva più che rispettare la legge, che anzi, secondo i magistrati, Riva avrebbero piegato al loro vantaggio grazie ad una fitta rete di rapporti.